Quale parola devo usare? Tavolo o tavola? Spesso gli studenti stranieri che imparano la lingua italiana si fermano davanti a questo dubbio. Con questo video cercherò di rispondere alla domanda. Anche se sono due parole di genere diverso, tavolo è maschile mentre tavola è femminile, comunque hanno un significato simile. La differenza sostanziale è che vengono usate in contesti diversi. Il tavolo. La forma maschile è usata con il significato di mobile. Esempio, voglio comprare un nuovo tavolo per la cucina. Spesso la parola tavolo è seguito dall'uso specifico che se ne può fare. Tavolo da gioco, tavolo da legno, tavolo da disegno, eccetera. La tavola. Usiamo questa parola al femminile per indicare il mobile attorno al quale ci sediamo per mangiare. Useremo il femminile tavola in espressioni come è pronto in tavola, significa che il cibo è pronto da mangiare. Mettere la tavola, significa preparare la tavola con tovaglia, bicchieri, forchette, eccetera. Essere a tavola, significa stare consumando il pranzo, la cena, seduti a tavola. Altre espressioni popolari con la parola tavola. Tavola fredda, significa locale che serve solo piatti freddi. Tavola calda, è un locale con servizio di ristorante, serve cioè piatti caldi. Avere il gusto della buona tavola significa saper gustare, amare il buon cibo.